Il Motafelan Guardians Club terrà la grande mostra internazionale del gatto il sabato 14 e domenica 15 dicembre di quest'anno. Il Motafelan Guardians Club, che è sotto l'egida del WCF, World Cat Federation, organizza esposizioni feline internazionali per questi ultimi otto anni su un livello di successo. Per questo evento, giudici provenienti dal Sudafrica sono stati invitati a venire a giudicare i felini più belli che sono provenienti da tutta Europa. Oltre all'anello principale, che si tiene ogni anno, il Motafelan Guardians Club tiene anche il doppio anello, master per la prima volta. Il premio per il gatto del 2013 verrà assegnato al gatto che ottiene il punteggio più alto di tutte le mostre durante tutto l'anno. Gli espositori stranieri hanno la possibilità di ottenere punti stranieri partecipando a questo evento. Il Motafelan Guardians Club offre buone tariffe per l'hotel da 18 euro per camera per notte, inclusa prima colazione. Il club invita tutti quelli espositori che hanno diversa razza a venire a partecipare. È possibile applicare o richiedere informazioni inviando una e-mail su info.montacatchows.com o visitare il sito web montacatchows.com. Grazie a tutti.